Ogni giorno riscontriamo difficoltà da parte delle nostre imprese associate, ma non solo, di trovare sul mercato del lavoro personale giovane da inserire nelle proprie produzioni. Nell'artigianato il lavoro c'è, i lavoratori no. Anzi, tra dieci anni in Veneto ci saranno più posti di lavoro che lavoratori. L'allarme lanciato dalla CNA regionale ha diversi motivi e richiede quindi diverse soluzioni. Il problema chiaramente da un certo punto di vista è legato alla demografia, perché i giovani ce ne sono pochi, è legato anche ad un aspetto culturale, perché le lavorazioni manuali, il bel lavoro non è sufficientemente valorizzato. Come primo impiego il 31% dei giovani si rivolge ai settori commercio e tempo libero, l'11% ai servizi alla persona e il 10% al metalmeccanico. Una cosa è certa comunque, dicono i sindacati, il reddito di cittadinanza non c'entra. Io ho visto i dati del reddito di cittadinanza in Veneto, sono lo 0,00 e qualche cifretta. Io credo che questo non sia il problema. Che non sia educativo questo forse sì. Il reddito di cittadinanza va bene per dove era stato pensato. Va bene nel momento in cui una persona non può essere ricollocata. I ragazzi e i giovani non vedono interessante la nostra regione, quindi non solo il mondo dell'artigianato ma la nostra regione. Ogni anno 12.000 ragazzi scelgono di andare via dalla nostra regione e non solo verso l'estero, anche verso l'Emilia Romagna per esempio. Quindi dobbiamo capire quali azioni sono necessarie per migliorare le condizioni di lavoro. Abbiamo intervistato circa 1.200 giovani chiedendo cosa cercavano loro nel lavoro. Bene, il salario era uno degli elementi importanti, qualificanti, ma quello che i giovani cercano nel lavoro soprattutto è uno spazio di riconoscimento, di crescita e soprattutto la possibilità di avere di fronte a sé un percorso. Per la CNA del Veneto bisogna accelerare la transizione verso il digitale e il sostenibile, agevolare il passaggio generazionale e le politiche attive per l'inserimento lavorativo dei giovani. Dobbiamo saper comunicare al nostro mondo che lavorare all'interno di un'azienda artigiana non è un lavoro di serie B ma dà delle grandi opportunità anche per i giovani e per il mondo proprio del lavoro.